Siamo qui in Skilllab per parlare del controllo di gestione, in particolare della contabilità analitica e di tutte le tematiche che si adottano per la determinazione del costo del prodotto. Mi sono trovato molto bene con il professore perché spiega in maniera molto semplice dei concetti che per noi amministrativi è molto importante perché vogliamo analizzare e riusciamo ad estrapolare questi dati che diversamente noi non sapremmo come gestire per analizzare i costi di gestione. Stiamo seguendo un corso di due giorni di contabilità industriale, credo che sia un momento di formazione importante in quanto riesce a darci le informazioni che a noi mancano in quanto tecnici operativi dell'azienda e quindi ritengo il corso assolutamente interessante.